Dare gambe al percorso di transizione sportiva. Questo è l'obiettivo del progetto nazionale Transport che verrà presentato a Roma martedì 5 novembre presso lo spazio sociale e darà via ad un percorso che coinvolgerà tutta l'Italia e durerà 18 mesi. Transport supportare i processi di coesione sociale, rigenerazione e sviluppo sostenibile attraverso la transizione sportiva. Questo è il titolo completo del progetto le cui caratteristiche verranno presentate a Roma dai promotori di 2SP. La giornata di domani si aprirà alle 10.15 con i saluti istituzionali di Carlo Corazza, direttore della rappresentanza in Italia del Parlamento Europeo. L'obiettivo del progetto è promuovere il concetto di mainstreaming sportivo, un processo per qualificare lo sport in politica pubblica e come strumento strategico a sostegno dei processi finalizzati alla promozione sociale, alla tutela della salute, allo sviluppo sostenibile e alla crescita economica. Richiamati e promosti sia dalla politica di coesione dell'Unione Europea, sia dall'Agenda 2030 dell'ONU.